Ciao! Non c'è dubbio, il mondo delle favole affascina sempre. Streghe, maghi, principi, principesse, pozioni magiche. Anche la moda e il cinema non si sono lasciati sfuggire questa occasione. E se infatti torna sul grande schermo Biancaneve, raccontata in due diversi film, alcuni stilisti si sono cimentati con il tradizionale libro delle favole. Christian Lacroix ha pubblicato una particolare edizione della Bella Addormentata, interamente illustrata dal celebre designer e raccontata dalla giornalista Camilla Morton. Una sfida per lo stilista francese che segue la raccolta di nove romanzi classici, fra cui Alice nel Paese delle Meraviglie ed Emma di Jane Austen. E se Christian Lacroix ha reinterpretato un grande classico della favola, il duo di stilisti olandesi Victor e Rolf ha scritto 12 originali favole che raccontano il loro mondo surreale, fatto di pozioni segrete, capricciose principesse e draghi che si trasformano in farfalle. E un mondo fatato è anche quello allestito da Karl Hagerfeld per Chanel, enormi pesci, conchigli e coralli come scenografia della sfilata. Da Louis Vuitton invece una grande giostra stile Art Deco, bianchi cavalli a dondolo e atmosfere fanciullesche. Quando tutto intorno si fa grigio, il bambino che in noi ha voglia di favole e di sogni.